Il nome di Cupra Marittima deriva dall'antica divinità preromana Cupra, legata alla Dea Madre che per i Romani si identificherà con la Bona Dea. Nel foro sono visibili le fondamenta di un edificio forse riconducibile ad una basilica o ad un tempio. Di fronte ad esso si erge il podio con scarinata del tempio Capitolino affiancato da due archi onorari. Un tempo vicino alla linea di costa era il Ninfeo, ancora ben conservato, con le pitture parietali raffiguranti scene marine, con tritoni e una barca con pescatori. Vicino al Ninfeo i resti di un ambiente termale. Il centro di Cupra Marittima era fortemente legato al mare. Vicino al corso del fiume Menocchia si conservano i resti di un possente muro, probabilmente da mettere in relazione alle strutture portuali. Nel Museo archeologico di Cupra Marittima è raccontata la storia del territorio dalla preistoria all'epoca picena, cui risale uno dei rarissimi esempi di stele figurata e iscritta, ai corredi delle tombe epicene, con vasellame, armi, monili. Dalla città romana viene un bronzetto di offerente, frammenti di statuaria e di decorazione architettonica e un frammento di calendario.